20, 1, 2, 3 che è scattata subito al comando Oblodicar che ne segue le mosse al pali di Ophelia ok con la via del largo che è stata presa chiaramente da Neld Gradoville che ha già recuperato abbastanza agevolmente la penalità, si affaccia subito all'esterno 31,6 per i primi 400 e ora Neld Gradoville che va ad accompagnare praticamente Martino M 46,6 intanto i 600 con Neld Grado che rimane all'esterno di Oblodicar lungo i birilli appunto e Oblodicar che precede Ophelia ok il passaggio agli 800 in 1,1 abbondante, anzi quasi 1,2 sul mio cronometro con i concorrenti che ora vanno a transitare davanti alle tribune con Martina che comanda all'esterno è sempre Neld Gradoville con di dentro Oblodicar il primo chilometro va via in un veloce 1,16,5 da parte di Martino M che sta imponendo sicuramente andatura di tutto abbastanza interessante lungo i birilli e sempre Oblodicar con all'esterno Neld Gradoville che se la sta facendo tutta di fuori in seconda ruota costante a centro della pista in quarta posizione per Ophelia ok 15,4 per la frazione precedente Cavalli che vanno sul penultimo rettilineo Martina che non accena a diminuire il suo ritmo la frazione in 14,8 ancora più veloce di quella precedente con Neld Grado ancora all'esterno in Pariglia con Oblodicar Ophelia che non ha spazio per poter scattare lungo i birilli si infila nel frattempo Olin Almar attacco della piegata finale con Martina OM e Dario Battistini che si voltano per vedere la situazione alle sue spalle con sempre la terza ruota ora lo scatto di Ophelia Deimar che va ad aggirare Neld Gradoville ora però si libera anche Oblodicar che va su Martina OM Oblodicar che va ad attaccare Martina OM ancora vitale lungo i birilli Martina OM e Oblodicar Oblodicar ultimo a fondo per Oblodicar che in zona traguardo passa e chiude la partita su Martina OM Ophelia Deimar terminati nell'ordine e Olin Almar 2.38 il tempo totale da parte del vincitore 1.17.1 il raguaglio al chilometro l'ultimo quarto in 31 14 per l'addirittura di arrivo attenzione per la giornata la sirena dei commissari la giuria vuole visionare il filmato si riserva di visionare